buongiorno amici buongiorno è ora di lasciare valencia e dirigerci verso il rotatom non possiamo abituarci tanto a un posto giorno e mezzo ci affezioniamo e via sarà la prima volta che faremo otto giorni fissi in un posto cosa per noi improponibile però sarà molto interessante molto divertente si visto che per me sarà la prima volta in campeggio amici un po di thailandia anche in spagna abbiamo il necessario per il pad thai e 2 ciò da mango i nostri preferiti siamo arrivati e come al solito ci siamo portati via tutta casa come vedete e visto che non volevamo fare mille giri ci siamo caricati tutto le macchine erano lontanissime siamo sfiniti sfinitissimi primo posto sono morta è stata un'agonia portare le valigie la tenda a montare la tenda a montare il telo per fare l'ombra sopra la tenda ora che abbiamo fatto tutto dopo un muschione con la libiana e dopo aver notato che la giorniera della tenda si era rotta siamo riusciti un po' a sistemarla chi è riuscita? lei adesso finalmente siamo seduti pausa panino pronti ad ispezionare il festival il campeggio, prima tappa ci ambientiamo bene nel camping l'energia sta tornando e si parte e andiamo a domandare grazie se l'ho troppo e indigenous grazie a te i 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 amici questa sera per la prima sera abbiamo deciso di fare cena con paella e tinto del verano che si chiama mal di testa liquido però è buonissimo! sentiamo questa paella pagata veramente pochissimo 4 euro! piatto di paella di mare sentiamola cambiate la forchetta di legno! è buonissimo! ci portiamo via la nostra forchetta non sopporto questa forchetta ragazzi ragazzi che dire qui saltiamo da un concerto all'altro è come fare il tapping del vivo è fantastico! qualcuno mi ha rubato avevo deciso di fare un posto con questa scritta qua domani abbiamo imparato un ballo giamaicano che è tutto un coscia 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 gira la caviglia allora faremo vedere non posso dire tra e c'è avuto un langurino Allora, in realtà, perché a quest'ora? Perché dobbiamo abituarci agli orari del festival Questi giorni andavamo a letto a luna adesso dobbiamo minimo aspettare le 6 e mezza per poter ambientare Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead